Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Kyudubaz Bene, andiamo pure avanti e vediamo un po' che succede A questo punto vi chiedo, avanti dove? Di qua? A quanto pare sì E' un po' scura la cosa qui Speriamo di essere del livello sufficiente Ecco, adesso il problema è Cosa sono queste cose? Ah, questo vi faccio scusate, io ho bisogno di capire le cose Ho bisogno di vederle almeno una volta per capirle A me la che non ho fatto il caricamento E siamo a posto Ok E io adesso cosa devo fare? Certo che se mi spiegasse un po' il gioco capirei Salve, ma noi siamo al terzo distretto? Com'è possibile? Allora Stranamente sono deboli Stai detto, sì Stai detto Gruppo Pop Vabbè Ahia Muoio, muoio Ok, prendiamo questa che usisce mai Ovviamente no perché Pippo gli piace combattere Quindi come poterlo abbesimare Come poterlo abbesimare Ok Ma Ma Si volata O C'è Borgiaschia Se C'ha lost Stelle deliro C'ha boia Suona bene C'ha da bello Allora vediamo un po' Prima di far cacate Qui si esce Presumo Oh cazzo Non volevo uscire Ma di solito mi scrivono Porca miseria Fatemi vedere Ma se c'è qualcosa di Di buono Ah L'hanno chiuso Ho capito Quindi niente Devo solo uscire Meno malo Dai mi dispiaceva Lasciare qualcosa Così mi Sempre Oh vabbè Andiamo Lo stesso Perfetto Quindi Devo andare Penso là Così a naso Ok Il verde si tolì dietro Non si prosegue Ed è sempre così Oh così Ha fatto Fatto bene A fare così Così Almeno Io sapete che mi perdo Anche a casa mia Nel bagno Di casa Quindi insomma Facendo così A me l'abbiamo Un pochino più disperante Che la figura di me È fatta di meno Ok vai Bravo Pippo Sei proprio forte Gento Eccoci qua C'è voglia Eh ma questo è quando Tirano Gli assassicci qua Un casino Sono invulnerabili Intoccabili Santa miseria Quanto ho di maghi Vabbè Perché Ce la facciamo Pippo La smetti di romper il cazzo Però Insomma All'è Stelle tuone Non è quello Forse mi sbaglio Interessanto Fatemi vedere Se non ci bisogna Dell'antimara Per fare qualcosa Sembrierebbe di no Ok andiamo Allora andiamo nel blu E Finché c'è solo una strada Mi sono quasi struzzato Finché c'è così Una strada Non so più parlare Ma questo è Olimpione Ci sta facendo Visitare I posti Che mi hanno già visitato Dai tai Qui ci devo ancora tornare Perché Volevo fare la coppata La coppata Il singolo Però non sarà facile Per un cazzo Perché sono Guarda 60 60 60 60 80 80 80 Il solo Non è proprio La cosa più facile del mondo Ok E su se E su se Oh vai Perfetto Fettinatico Va Ci per Il cazzo di chiama Insomma Mickey Ma Mickey Ma C'è l'altro Donald Duck Ok Aspetta 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 Pieno Siamo pieni Adesso devo andare avanti O Andrio Andiamo di qua Era Andrio Che bello Ok Questa l'abbiamo fatta Siamo pieni Dai Cosa Ci manca Per livellare 4.400 Beh non sarebbe neanche tanto Se pensate Quindi andiamo nel blu Qui di blu Perché ho lasciato indietro qualcosa Casse Vale Vabbiamo a capire Vale Mi sembra una giungla Nella jungle Eccoci qua Ok Abbiamo arrivato Una cosa non provate Effettivamente Non ho visto bene Sono andato indietro Scusate Non devo volerci Comparire Ma guarda sto scemo Qua Ce la facciamo Si sguillano tutte le banane Insomma E se Oh cavolo Ok Non ho preso Nell'olimpio Il cofano Il cofano Oh Santa miserica Oppure l'ho preso Non mi ricordo Porca miserica La vecchiaia È una cosa Proprio brutta brutta Porca miserica Quando colpisce Proprio È senza Senza di segno Allora Devo andare un attimo In Drio Per vedere Dov'è verde Per vedere Se ero limpio Ho lasciato indietro Qualcosa Che non mi ricordo Di aver preso La cassa E ovviamente Ci sono tutti Fatemi vedere Che effettivamente Non l'ho vista Intanto loro Combattono Mi interessa Voglio solo vedere Perché mi sembra Così strano Che c'è stato D'apertutto Franne che qua Vediamo un po' E effettivamente Non c'è Vabbè faccio un tale Ci vediamo dopo Ed eccoci qua Quindi qui Eravamo andati E dobbiamo andare A quello dopo Vabbè Andiamo dove Andiamo stavolta Ah siamo a Dazgabar Andiamo un pochino Qua si può entrare Con il cazzo Mi ha risposto Il posto così isolato Stretto Andiamo un po' Vabbè Pref su corsa Andiamo pure avanti Chissà dove sarà Lo scrigno Se ci sarà Che altro Salve signor Pantone Signor Pantone Qua Ok questo è andato Vai Guarda che questo Sora è rivellato Dove sono i cosi Devo stare attento Per vedere Se ci sono effettivamente Degli scrigni Andiamo un po' Fatemi vedere Va perché sicuramente C'è Chi c'è sotto? Ma che palle C'è altra azienda Scusate I nati qui solo Eccoci qua Siamo anche questi Che è meglio Vai Andati Altri Ok Per adesso Non mi sembra averli visti qua Però Non si sa mai Magari qua sopra Non si va Qua sopra Si va Ma non si va Non lo so Non so che controllare Eh Infatti c'è qualcosa Hola Stellar D2 È un ottimo item Vediamo qua C'è qualcosa Semmerebbe di no Volevo vedere Giusto Ah Avete chiuso tutto Birboni Eh Devo dire giusto Se c'era qualcosa Anche all'inizio Perché potrebbe anche essere Qui si può selezionare No Qui si può selezionare Sì Qui si può no Qui sì Vediamo un po' Se c'è qualcosa Vediamo un po' Poi guardo eh Perché non si sa mai Magari c'è qualcosa di buono Qui siamo in alto Semmerebbe di no Così a naso Eh Ok Quindi niente Abbiamo preso quello che Possiamo andare Possiamo andare E Liberare quanto manca Abbiamo liberato Volevo dire scusatemi Sora Tre punti Permette un attacco potente Con un salto Contro Beh questo mi spiace Tanto Permette un attacco Rotante Facciamo Quanta roba c'era Eeeh Queste li abbiamo Mi manca questo Io farei Questo qua Che mi piace tanto E poi dopo vediamo Ok Ah non è qui Che bella figura di merda Ero convintissimo Quindi devo tornare un po' più in rio Eh vabbè Patienza Ciao così forse andiamo più la voce Forse un'impressione Eh vabbè Patienza Mi si era un gattaprecchio La vita però Accidenti Ok E quindi Nel blu Dipinto di blu Eccoci qua Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci dici Quanto odio Questo livello Di acqua È proprio bruttissimo Non riesco a combattere Su attacco Non lo so perché Faccio schifo Ok ci siamo Vediamo un po' Ok Eh purtroppo Si combatte un po' male Ti faccio quel che posso Cos'è Che combo Da panico L'ho fatto Ok Cos'è Lei è Molto simpatico A quanto pare Lo sa Ok Sì Ormai siamo Tanto potenti Facciamo tanto Tanto danno Quindi Vediamo un po' Scusato Sbagliato Eh ma allora Smettila Odio 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 Combattere qui In acqua È veramente Un schifo Atomico Eh c'è da fare Dai Ok Non ho trovato Il bidono Da prendere Probabilmente c'era Ma l'ho visto Dov'è Andiamo Un attimo Eccomi Scusate Ok Opla Quindi niente Andiamo qua Vediamo un po' Stanno Perché mi sembra di essere Oh Dove c'è il boss E chissà dove sarà La sorpresa Ecco lo schigno C'è giù addirittura La uno Ok dopo lo prendiamo Adesso andiamo a menare questi E qui ci sarà di divertirsi Questi si tratta sport È un po' Una palla Eccolo Sono abbastanza deboli Ok Altri Ok Grandi Vai Ovviamente Ovviamente La donna Li massacchiamo Dopo arriva il boss Che ci sono assolta Perché è sempre fuori scala Un boss Vediamo un po' Ok Vediamo un po' Sali sali Allè Possiamo prendere questo adesso Evidentemente no Perché c'è sempre uno strumento Che coglioni Ok Finito Vediamo un po' Trastel Per me è per fare l'ultimo pezzo Quello che non riuscivo mai a trovare Quello che mancava i pezzi Per costruire Al primo distretto Vedete che è così Sicuramente Allora Il verde si trova il nieto E possiamo avanti Ok Andiamo pure Siamo da Peter Pan Ovviamente non si capisce un cazzo Come al solito Sì ma questa telecamera Non le supporto Le telecamere così Guardate Non le Vedete sono solo Perché i miei ci sono Persi da qualche parte Ok Vediamo se sopra c'è qualcosa Qui c'è effettivamente qualcosa Però io devo capire Se c'è Dai però Mamma mia Quindi possiamo volare no? No Non possiamo volare Possiamo solo planare Eh la telecamera È così bella Proprio bella bella La telecamera qui Eh io Non so che fare Non salta Non ci vogliamo fare niente Qui non riesce ad andare Qui non ci va Io salto Ma lui se ne sbatte i coglioni Eh vabbè Così dai Ci volete fare Non c'è niente da fare Quando uno è stronzo È stronzo Riesco ad andare da qualche parte No Perché so Insomma Dittemi voi Da che cazzo di parte Devo andare Questo cazzo di cose Che non funziona Mai quando deve Allora di qua no Io andrei di sol Aspetta Vediamo se c'è qualcosa Più va là Ovviamente Non c'è un cazzo Oh Uno schigno Meno malo dai Scudo del potere Questo non me lo aspettavo sicuro Peperino Pippo Scudo del potere Però Notevole Questo scudo del potere Un bel salto Ha fatto Quindi Qua abbiamo già visto Che non c'è un cazzo Abbiamo combattuto Qua Non si va Io andrei solo sopra Mamma mia Ragazzi Immaginate Quante scomoda Sta la telecamera Niente Di qua non si può andare Quindi Che cazzo devo fare io Di qua Ok Bella è la telecamera Così proprio utile Utile proprio da dio Ok Qui non si può andare Eh Poi Fantastica Telecamera A proprio modo Ok Eh Un bel casino Qui non si può andare Qui non si può andare Qui non si può andare Qui non si fa un cazzo Adesso Sono contento Mi sono perso Mamma mia Stata la telecamera Quanto è odiosa E adesso L'hai chiuso Sono un po' confuso Ovviamente La telecamera Mi sta aiutando tanto Adesso giro Poi vi faccio sapere Dopo Ho guardato Una vi guida E ho visto Che c'era Da prendere Una cosa Che non ho preso Nella Dalla sirenetta C'era Una P Una P Molto importante Quindi andrei Subito a prenderlo Qui usciamo Tanto non c'è più niente E siamo a posto Quindi ho trovato Indietro di due Allora Verde Qua Allora Qui c'è la Halloween E qui c'è la sirenetta Andiamo subito Perché E' importante Non ho proprio Proprio Vi visto Non l'avevo Così ve lo faccio Ovviamente Qui non si capisce Un cazzo Vale Hai Mamma mia Che brutto Tu battere qua Veramente E' veramente Ottissimo Ok Vai Ok Adesso Che la piaga faremo tutto Purtroppo Non è proprio Nel mio Non mi piace C'è Lo devo farci Mi piace Mi piace Mi piace Combattere qui Ok Se vieni giù Grazie Adesso Riusciremo a andare più Dai Piano piano Mi viene nervoso Mi viene Perché il pulsante Per cedere Se lo spingi due volte Dopo inizia a correre C'è una stronzata Senza fine Comunque Stavamo dicendo Che noi dovevamo andare In un punto Guarda che testa Di cazzo Allora Doviamo Eccolo Ho trovato Eh niente C'è niente da fare Proprio testa di cazzo Ok Data Vai AP Alleluia Se l'ho dato Dai Su Oggetti Sora No Scorta AP Sora Grande Così siamo a posto Possiamo andare via Per carità Non ce la faccio più Stare il posto Di merda Vai Usciamo Quindi devo andare avanti Due Uno Qui siamo ad Halloween Poi Qua andiamo a Peter Pan E di qua Andiamo a quello nuovo Vediamo Ci siamo Save Oddio Non c'è un save Da nessuna parte Vero? Peccato Andiamo un po' Oh 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 Ce l'ha dato proprio qua Megalisi Eh Eh Pazienza Cioè Quindi Eh Cosa devo fare Oh Un save Tutti siano rodati Ok Non ci credo Vai Salva Eh Ci mette un po' ragazzi Perché mi hanno fatto I 98 Di salvataggi Mi sembra giusto Volevo vedere Che Adatto che adesso Ho preso una più migliore Una minita Se posso fare qualcosa Ne ho due Eh Potente attacco Però è necessario Treppiere Questa Un po' Mi scoccia Sarebbe stato bello questo L'ultima chance Però Non posso Non posso farlo Aerocolpo Tutta roba che usa Il nome PM Dopo mi sta Soccato Vabbè dai ragazzi Facciamo che ci fermiamo qua Così nel prossimo episodio Credo e spero Che affrontiamo un boss Non lo so Quindi Vi vedete Come solito Lasciamo un commento Se mi piace la serie Di farmi sapere cosa pensate Siete sotto la cima Ciao ciao